Ali di farfalla, il carro ideato da Giuseppe Cadili e realizzato dal cantiere Giovani di Belle Speranze, è incentrato su una vera e propria piaga sociale, la violenza sulle donne. L'ideatore ha tratto l'ispirazione da alcuni versi della celebre poetessa Alda Merini. E se diventi farfalla, nessuno pensa più a ciò che è stato, quando strisciavi per terra e non volevi le ali. Ali di farfalla vuole essere un inno alla vita, alla rinascita, un incitamento a non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Bisogna sempre schierarsi, la neutralità favorisce l'oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato. Un vero uomo conquista con la forza del cuore, non con le mani. Tagliate i fili che vi tengono legate ad un amore malsano, riprovevole e tramutatevi in farfalla. Volate verso una nuova vita con una unica certezza che proprio quando il bruco pensò che il mondo fosse finito, diventò farfalla. Grazie a tutti.